E' un'idea di un'idea di un'idea di un'idea di un'idea. Stupido uomo. Tu ed io siamo gli ultimi figli rimasti di Big Boss. E' vero. Tu e io siamo... Gemelli, esatto. Tu e il capo non siete di questo mondo. Venite da un mondo che non voglio conoscere. E' otakon. Otakon. Vuol dire otaku convention. Oggi in poi puoi chiamare questo postore... Outer Heaven. Anzi, arrivederci... Signor Presidente.